Gelindo Bordin compie un'impresa straordinaria, vince la maratona davanti ai temibili avversari africani e rende orgoglioso un paese intero, l'Italia intera lì che festeggia. Gelindo, il geometra di Vicenza, ha conosciuto gioie e dolori, vittorie e sconfitte e come ogni grande campione non ha mai mollato, ha sempre continuato a allenarsi con costanza. La vita è imprevedibile, alcune volte ti dà di meno e alcune volte ti dà di più di quello che ti aspetti. Make it bright, dice Gelindo, sei il limite di te stesso. In quei giorni a festeggiare tra i milioni di italiani c'erano due ragazzi, i protagonisti della nostra storia di oggi. Abitavano a 100 chilometri di distanza, apparentemente non avevano niente in comune. Ma forse qualcosa c'era. Riccardo di Genova aveva appena terminato il suo percorso di studi alla scuola per odonto tecnico e Federico di Alessandria in quei giorni stava iniziando lo stesso percorso. Quando frequenti questa scuola superiore e pensi all'università generalmente hai un sogno, un sogno solo, la tua mission. Entrare odontoiatria, diventare un odontoiatra. In quell'aula magna di medicina a Genova c'erano centinaia di ragazzi, 30 posti per 400 candidati. Era probabilmente la prima volta che Riccardo e Federico erano nella stessa stanza insieme. La vita è imprevedibile, a volte ti dà di più e a volte ti dà di meno di quello che ti aspetti. Questa volta per Riccardo e Federico è andata male. Nessuno dei due entra in odontoiatria. Riccardo continua il corso di studi in medicina dove ha già dato molti esami. Federico inizia il primo anno di medicina. Entro luglio da tutti gli esami di medicina nel 1994 ci riprovano entrambi. Si preparano tutta l'estate per quei 90 minuti, per quel test che vale un sogno. La vita è imprevedibile, alcune volte ti dà di meno, alcune volte ti dà di più. In questo caso li ha premiati entrambi e ti premia soprattutto se non molli mai. Riccardo ha una grande passione, la barca a vela. Inizia a regattare, a regattare veramente forte. Grandi risultati, inizia con team internazionali, frequenta i migliori. Federico fa sport a tempo perso. Entra nell'associazione studentesca, nell'Aiso e dopo neanche un anno diventa presidente nazionale, perché la vita alcune volte ti dà molto di più di quello che ti aspetti. Federico e Riccardo vanno al primo congresso della loro vita dell'AIC. Non sanno neanche quanto quel weekend cambierà loro la vita. Dopo quel weekend maturerà un altro sogno, un nuovo sogno da conquistare, diventare associativi dell'AIC. È altamente probabile che questo accada per due compagni di università. Nei vent'anni successivi, poco più di 20 persone, poco più di 20 odontoiatri, riusciranno a conquistare questo status. Il 23 luglio del 1999 si laureano. I primi di quell'anno diventano dottori e nella stessa mattina, nello stesso giorno, Riccardo e Federico diventano dottori in odontoiatria. Nel 2006 Federico ha i casi pronti per andare davanti alla commissione accettazione soci, ma i suoi sponsor lo boccano. Per lui è una grande sconfitta, perché la vita alcune volte ti dà meno di quello che ti aspettavi. Nel 2007 tornano a riva del Garda. Federico condivide la stanza con Riccardo e con Ciccio. Sono molto agitati quella mattina, più del giorno della laurea. Arriva l'esito. Federico ha una gioia immensa, è un nuovo socio AIC. Per Riccardo purtroppo le cose vanno diversamente, ma come i grandi campioni anche Riccardo non molla mai e quindi da lì a breve anche lui diventerà socio AIC. La vita ti toglie, la vita ti dà. Ormai loro due sono associativi. Sono in un gruppo straordinario di professionisti che li ispirano e gli danno tantissimo. E il sogno si è avverrato. E un giorno entrano nel consiglio direttivo dell'Accademia. Hanno molto di più di quello che avrebbero potuto immaginare. Nel 1993 Federico e Riccardo erano insieme per un esame che inaspettatamente è andato male. A Bologna nel 2019 Federico e Riccardo sono insieme sul podio dell'Accademia, anche qui inaspettatamente. Anche se non sono grandi campioni, Riccardo e Federico hanno fatto in parte come loro. Hanno usato le sconfitte per imparare e per ripartire ancora più forti. La vita è imprevedibile. Alcune volte ti dà meno, ma se non molli mai, certe volte ti dà molto di più. Ricordati di non mollare mai, perché un giorno potrai avere cose che non riesci neanche oggi a immaginare. Do better than yesterday.